Siamo insieme a Maria Edera Spadoni. La prima domanda è, è appena finita ovviamente la seconda trans di votazioni, com'è andata? Beh, basicamente è stato esattamente quello che si è visto ieri, certo sì, oltre 500 schede bianche, ci sono i nostri 123 di imposimato, è rimasto più o meno tutto bloccato a ieri. Noi abbiamo ribadito che appunto siamo aperti anche a valutare eventuali nomi così come abbiamo fatto questa settimana, perché noi questa settimana abbiamo fatto un'apertura nei confronti del Partito Democratico e abbiamo chiesto dateci un nome, dateci un nome e noi lo valuteremo. Renzi ha detto di no, poi alcuni parlamentari hanno invece dato il nome di Prodi e c'è stata una votazione online di una rosa di nomi. Questa è la seconda volta che succede nella storia, è un esempio di democrazia diretta che stiamo vedendo qui in Italia e questo lo sta facendo il Movimento 5 Stelle, quindi questo è rivoluzionario. Certo, questo lo sappiamo, siamo gli unici a farlo. La seconda volta che voti per il Presidente della Repubblica in due anni, meno di due anni, che cosa è cambiato per te dalla prima volta? Ma è cambiato direi poco o niente, chiaramente c'è una forte emozione, cioè io mi sento onorata di essere una portavoce per dei cittadini e di poter veramente portare la voce, perché Imposimato quel nome non è un nome deciso da me, è un nome deciso dalla rete. Io avevo anche apertamente detto, anche in base alle ultime vicissitudini sul mio territorio, per me Di Matteo poteva essere un nome, e invece adesso mi ritrovo a scrivere sulla scheda un nome deciso da migliaia di persone, quindi per me questo è assolutamente rivoluzionario. Rimanendo su Imposimato, Imposimato si è occupato moltissimo di mafia, come tutti sappiamo. In Emilia Romagna in questi giorni 117 arresti proprio per mafia. Quanto sarebbe importante Imposimato per risolvere questo problema che abbiamo da sempre nel nostro paese, in Italia? Allora, faccio una... Per conto c'è anche un attimo quello che hai provato anche tu sulla tua... Allora, io è un anno e mezzo che faccio denunce sul mio territorio, il mio territorio a Reggio Emilia è considerato secondo i giornalisti la cupola dell'andrangheta nel mio territorio, il mio territorio è stato martoriato e questa è colpa di una sottovalutazione che politici locali hanno costantemente compiuto in questi anni. Noi da Matteo Livieri, dal nostro consigliere comunale a Reggio Emilia, in poi abbiamo sempre denunciato. Io ho chiesto dimissioni del sindaco Coffrini di Brescello perché aveva detto appunto che Granda Racri era una brava persona. Mi è stato intimato di non nominare più quel nome. Mi ha ricevuto delle minacce proprio, lo diciamo. Mi ha ricevuto delle intimidazioni. Intimidazioni vuol dire è meglio se lei questo nome non lo faccia. Mi è stato anche detto è meglio se lei si occupa di atti parlamentari. Non si occupi di queste cose. E visto che questo mi è stato detto, chiaramente io mi sto occupando di queste cose. Tre giorni fa è successo appunto questo blitz, questo blitz che ha portato a ordinanze di custodia cautelare oltre cento persone e chiaramente ci deve essere una bonifica. Noi dobbiamo estirpare questo cancro che, ripeto, è riuscito a radicarsi sul nostro territorio, anche grazie a una sottovalutazione della politica locale. All'interno di questi arrestati ricordo che ci sono politici, Pagliani, consigliere comunale di Reggio Emilia, ci sono imprenditori e ci sono anche giornalisti. Riflettiamo su queste tre categorie. Ok, un'ultima domanda. Ci sono imprenditori e ci sono anche giornalisti. Riflettiamo su queste tre categorie. Ok, un'ultima domanda. Non ho risposto, scusami. Chiaramente, imposimato. Imposimato per me il rura di alto livello è assolutamente opportuna, anche perché sono abbastanza convinta che non si permetterebbe, come ha fatto Napolitano, gli anni scorsi di firmare determinati decreti. Quindi una buonissima figura. Perfetto, quindi l'avete scelto benissimo. Non avevamo dubbi. Anche se c'è questo Prodi che è un po' al secondo posto. Come mai Prodi poi al secondo posto, secondo te? Dal mio punto di vista Prodi è stato messo per creare una spaccatura loro. Nel senso che se noi portiamo avanti un nome che ha il nome loro, loro chiaramente si ritrovano e c'è anche da dire che c'è stata una minoranza del Partito Democratico che ha proprio palesemente detto noi voteremo Prodi. Però non spunta mai da nessuna parte perché prende 4-5 voti e abbiamo visto non di più. Evidentemente quella famosa minoranza del Partito Democratico ha deciso di adeguarsi ai diktat di un'unica persona cioè Matteo Renzi che ricordo si ritrova nelle segrete stanze assieme a Berlusconi per decidere il nome quando invece noi abbiamo chiesto che questa cosa venisse fatta apertamente. Evidentemente seguono i suoi diktat. Ok, c'è una domanda dalla rete. Tu sei una donna, a tuo avviso oggi la politica è in grado di coinvolgere adeguatamente le donne? Dunque, la politica è in grado di coinvolgere le donne. Ma io credo che il welfare dovrebbe aiutare, contribuire affinché le donne vengano coinvolte. Molto spesso parliamo di quote rosa. Io personalmente non sono d'accordo per le quote rosa. Io non voglio essere messa lì perché un segretario lo decide. Io voglio che le donne abbiano la possibilità di avere degli asili, di avere delle strutture tali per cui possono dire faccio la mamma e faccio anche la parlamentare. Quindi preferisco mille volte che ci sia un incremento del welfare piuttosto che mettere una persona che magari proprio perché questo welfare non c'è non riesce a venire a lavorare in Parlamento. Quindi lì bisogna incrementare il welfare. Ti faccio l'ultima domanda. Ieri è successa una cosa un po' strana. Razzi si è addormentato in aula. Quelli del PD cosa stanno facendo? Ah, quelli del PD adesso stanno seguendo, ripeto, le logiche del loro leader Matteo Renzi che ricordo fa accordi appunto con un condannato in via definitiva e seguono i diktat. Adesso quelli del PD sono strani, nel senso che a parole nei giornali, vari civati, vari cooperlo, quello che fanno è fondamentalmente dire no, non siamo d'accordo con questo, non facciamo questo. Poi quasi sempre decidono poi di votare come tutti gli altri. Quindi a parole sono molto bravi, però nei fatti, nell'aula parlamentare o non si presentano, quindi a volte vedi proprio la tessera che esce, o se no decidono comunque di votare con la maggioranza, a parte una qualche eccezione. Va bene, ringraziamo Edra e ci vediamo tra un pochino per nuovi aggiornamenti qui dalla Camera dei Diputati. Passiamo la linea alla cosa. Ciao. Ciao.